Le speranze di ripescaggio dell'Aquila e Lega Pro sono appese non solo all'eventuale modifica della federazione sulla responsabilità oggettiva in illecito sportivo per presentare la domanda di ripescaggio, ma anche e soprattutto allo stadio di Acquasanta. Nel Consiglio federale d'inizio settimana, infatti, è emerso con chiarezza come non verrà fatto alcuno sconto ai club di Lega Pro sulle carenze infrastrutturali. L'Aquila da questo punto di vista deve assolutamente avere l'omologazione del nuovo stadio, anche perché l'ormai vecchio Fattori non potrà godere di una nuova deroga, come invece è successo nei campionati passati. Gli interminabili lavori dello stadio senza barriere sembravano ormai ultimati. In realtà, l'ultimo ostacolo da superare riguarda l'installazione delle circa 100 telecamere previste nell'impianto. L'appalto è stato vinto dalla ditta SICE-SRL di Agrigento, che però firmerà solo lunedì 13 giugno il contratto stipulato con il Comune. Da lunedì dovranno quindi decorrere 28 giorni per la consegna dei lavori. Poi inizieranno i collaudi di rito. Facendo un rapido calcolo si andrà sicuramente oltre la fine di giugno, dunque in pericoloso ritardo per presentare la domanda di ripescaggio con tutti i requisiti in ordine. Il Comune spera in un'accelerazione dei tempi, anche perché il resto dei lavori sono stati ultimati e la prossima settimana si provvederà all'ultimo collaudo del manto erboso, dell'impianto elettrico e delle torri faro. Operazioni concluse dalla ditta SPEL di Altamura e supervisionate dal RUP, responsabile unico del procedimento Berardino Tarquini e dal direttore dei lavori Vincenzo Magnifico.